La questione è anche al tema dell'accoglienza, l'altro tema è che non possiamo accoglierli tutti. Sono abbastanza disgustato sempre dal desiderio vostro di mettere l'argomento in questi termini perché è come se ci fossero i brutti cattivi che vogliono annegare le persone e i buoni bravi invece che li vogliono salvare, cioè è ora di piantarla con questo stereotipo. Qui si deve parlare di una situazione che non è normale e che non viene gestita, non viene fermata o addirittura, come le indagini stanno verificando, agevolata perché si tratta di agevolare traffico di persone, immigrazione clandestina. Vogliamo dire che il problema sono gli scafisti che li caricano sulle barche, ci fanno i soldi e che poi quando arrivano da questa parte ci sono associazioni pseudo caritateoli che ci fatturano sopra? Vogliamo dire che quello che succede in piazza davanti alla stazione centrale a Milano non è normale e che sono le stesse persone che passano poi per i profughi che vengono caricati sulle barche? Allora, se non lo si guarda da questo punto di vista, è anche numerico, 170.000 botta, vuol dire che in meno di 10 anni ci sono qua 4-5 milioni di persone. Stiamo parlando di questi numeri, vogliamo dire che non si reggono questi numeri? Altrimenti ci raccontiamo una favola che non funziona, che non è la realtà. Di questo dobbiamo parlare, che ci sia una procura che indaga, voglio ben vederlo, perché è chiaro che c'è una speculazione che c'è un giro di denaro mostruoso. Ribadisco, in Italia sono spesi 4 miliardi e 700 milioni di euro, solo sul territorio italiano. Quali sono i flussi che generano per gli scafisti dall'altra parte sulla costa libica? Mostruosi altrettanto e non vengono fermati. Questo non è normale, non è normale per l'Unione Europea, non è normale per un paese come l'Italia. Le immagini che state facendo vedere sono quelle delle stesse persone che erano sulle barche. Milano questo, Milano il blitz. Quando poi sappiamo che questo è il modello di accoglienza, gente non funziona, non ci siamo per niente. Questa gente che se arrivasse alla frontiera con i documenti non avrebbe il diritto di entrare, perché non sono profughi.